A Gandino lo sgombero neve lungo la strada che porta al Monte Farno continua a far discutere. Il consigliere della minoranza Marco Ongaro ha scritto in questi giorni al prefetto. Perché? Abbiamo scritto al prefetto perché riteniamo sia un dovere dell'amministrazione comunale di provvedere allo sgombero neve nelle località turistiche del Monte Farno-Montagnina. In particolare durante questo periodo invernale. Visto e considerato che nelle prossime giornate, quindi il prossimo weekend, sarà oggetto di nevicate, non vorremmo che si ripetesse lo stesso caso del mese scorso dove lo sgombero neve non venne effettuato da parte del Comune di Gandino. Il sindaco in poche parole non aveva dato disposizione per pulire la strada, con un notevole disagio per quanto riguarda l'afflusso del pubblico. In particolare abbiamo chiesto che il prefetto metta in pratica quei poteri sostitutivi che gli competono, in poche parole, si sostituisca al sindaco nelle funzioni di ufficiali di governo per tutelare l'incolumità pubblica e quindi effettuare direttamente lo sgombero direttamente da parte della prefettura con addebito poi al Comune. Già alcuni anni fa, quando il sindaco era Maccari, chiedemmo l'intervento del prefetto e della protezione civile addirittura per lo sgombero neve della località del Monte Farno e immediatamente dal giro dell'arco di una mezza giornata la località venne ripulita totalmente. Quindi non vorremmo tornare a situazioni del genere, pertanto chiediamo preventivamente l'intervento del prefetto. A questo punto ci viene spontaneo chiedere, ma a tutta la popolazione e anche i fruitori della località montana, ma come mai c'è questo disinteresse al Farno e alla Montagnina? Gli amministratori dovrebbero spiegare, il sindaco e la giunta a completo, come mai non vogliono mantenere viva questa località. Devono anche spiegare i motivi pratici, altrimenti la gente può anche pensare che il loro core business è dirottato su tutt'altri argomenti. Quindi invitiamo sinceramente l'amministrazione a pensare e a fare qualcosa di bene per il nostro territorio e la nostra popolazione, anche perché teniamo conto che ci sono degli esercizi commerciali e dei residenti in queste zone. Grazie a tutti.